Villa delle Fate, di nonna Anna, residenza per anziani, ubicata al centro di Napoli, una splendida dimora dotata di tutti i confo. Villa delle Fate riserva particolare cura a tutti i suoi ospiti, e le sue stanze prive di barriere architettoniche, dispongono tutte di tv, telefono in camera ed aria condizionata. Villa delle Fate, è la casa adatta a chiunque voglia vivere la vita serena, che vivrebbe in famiglia. La massima assistenza, l'equipe è composta da psicologi, assistenti sociali, medici di base e servizio infermieristico. Offre anche attività ludiche, gite organizzate e Santa Messa settimanale in sé. Via Sant'Anna dei Lombardi 16, Napoli, telefono 081 551 9388, cellulare 338 3134 789. Facebook, Villa delle Fate non Anna, Villa delle Fate 2012, chiacciolallibero.it